E' stato consegnato ieri in regione il progetto Museo Senza Limiti, approvato nella giornata di lunedì dall'Aggiunta Municipale di Ponte Cagnano-Faiano. Un'idea da 55 mila euro presentata a Palazzo Santa Lucia nell'ambito dell'avviso pubblico per la selezione di eventi per la promozione turistica della campagna di rilevanza nazionale ed internazionale, il cui iter si concluderà con il finanziamento dei progetti ritenuti più validi. L'iniziativa, frutto della collaborazione fra Lega Ambiente Campania, il Polo Museale della Campania ed il Museo Archeologico Nazionale Etruschi di Frontiera, prevede la realizzazione di opere d'arte dedicate alle antiche origini del territorio. Gli artisti saranno selezionati attraverso un bando internazionale ed avranno la possibilità di esporre le proprie opere nei luoghi storico-archeologici più importanti. Parallelamente al concorso verranno presentati tre percorsi tematici che si snoderanno in vari luoghi della città. Culturale, dedicato alla civiltà etrusca e dalla storia del territorio, enogastronomico e didattico, rivolto ai bambini ed incentrato sulla tutela del patrimonio e sulla sostenibilità ambientale. Il progetto sarà integrato da un'app dedicata che accompagnerà il visitatore lungo i percorsi.